Al Bar Bellucci, indirittura d'arrivo per questo scopone. Vediamo un po' come va. Presidente, ma ti ho detto gioca due di coppe. Quando lo giochi? Sinisa, ma quali coppe coppe? Che quest'anno le coppe le vediamo e basta. È inutile che le mettiamo in esclusiva e poi non le giochiamo. Ho capito. Gioco asso di spari e taglio gola. Ma che fai Mario? Mario, ma dai! Così non si fa. Tu sei barotelli. Io taglio gola e non ti faccio più giocare. Dai Mario, ma che fai? Sapete che vi dico? Io cambio gioco e per questa volta, caro Sinisa, l'hai scampata. E' andata bene dunque via. Sinisa è riuscito a salvare la panchina. Sinisa Mialovic per la gioia anche di Giuliano Nemasteis. Giro di domande finali, poi ci saluteremo con il consueto selfie della buonanotte.